Bentornati a tutti sul canale. Oggi parliamo del Buffett Indicator e come applicarlo all'interno di un'analisi di mercato. Parleremo di quelli che sono i suoi punti di forza e quelli deboli. L'indicatore Buffett è il rapporto tra la valutazione totale del mercato azionario e il PIL. Secondo i calcoli questo è attualmente il 45% al di sopra della media storica, suggerendo un mercato sopravvalutato. Rispetto però a qualche mese fa, infatti dove ci ritrovavamo quasi ai massimi storici raggiunti da questo indicatore, vediamo come lo stesso grafico abbia ripreso ovviamente una discesa verso una media storica. Prende il nome del più famoso investitore di tutti i tempi perché una volta definì questa misura la più efficace per valutare lo stato del mercato in un determinato momento. Per misurare più comunemente il valore del mercato azionario statunitense si utilizza il Wiltshire 5000. Questi dati sono disponibili direttamente dal sito e presentano dati mensili a partire dal 1971. Per quanto riguarda invece il PIL, quindi il prodotto interno lordo di un paese, rappresenta la produzione totale dell'economia, in questo caso statunitense. Viene misurato trimestralmente ed è una misurazione statica dell'attività economica precedente, quindi non prevede il futuro né prevede alcuna aspettativa o valutazione dell'attività economica futura di quel paese. Dato che il valore del mercato azionario rappresenta le aspettative dell'attività economica futura e il PIL è una misura dell'attività economica effettiva invece più recente, il rapporto tra questi due dati rappresenta i rendimenti futuri attesi rispetto alla performance attuale. È ragionevole che questo rapporto rimanga relativamente stabile nel tempo, aumentando lentamente man mano che la tecnologia permetta di utilizzare lo stesso lavoro e capitale in modo sempre più efficiente. Se il video ti sta piacendo metti un mi piace ed iscriviti al canale, noi nel frattempo continuiamo. Per rendere più chiaro quello che è il contesto attuale si può ridisegnare quella che è la tendenza orizzontalmente rimappando i dati. Il grafico mostra una serie di bande che mostrano un più o meno rispetto alla deviazione standard. In generale circa il 70% del tempo il Buffett Indicator dovrebbe essere entro il più o il meno uno della deviazione standard e il 98% del tempo dovrebbe essere entro il più meno due deviazione standard dalla media. Viene mostrata come la zona tra 1 e 2 deviazioni standard come sopra o sottovalutata e tutto ciò che è al di là di questo intervallo quindi superiore a 2 come fortemente sopravvalutato proprio nel 2000 prima della bolla.com e proprio qualche mese fa. Cosa può dirci il Buffett Indicator sui futuri rendimenti del mercato azionario? Questa è probabilmente la domanda che tutti gli investitori si pongono. Il grafico che vedete prende i dati mensili restituiti dal modello dal 1950 al 2016 mappando quello che è stato il rendimento avuto dall'SP500 nei cinque anni successivi. Come potete ben vedere sono tratteggiate anche le linee verticali quelle che sono le bande di sotto sopravvalutazione dei modelli che avete visto nel grafico precedente. Come esempio prendiamo il punto più a destra del grafico che corrisponde al marzo 2000. In quel momento avevamo una forte sopravvalutazione del mercato che ci restituiva il modello. Infatti nei cinque anni successivi il rendimento dell'SP500 reale quindi aggiustato all'inflazione è stato del meno 30%. Adesso andiamo a riprendere quello che è il grafico che ci restituisce il valore attuale del Buffett Indicator e quello che possiamo notare è che attualmente dopo il recente sell off il mercato azionario statunitense ora si trova nel range tra 1 e 2 deviazioni standard. È importante sottolineare che non vi è nessun indicatore capace di darci una visione a 360 gradi del mercato. Infatti la critica principale che si fa al Buffett Indicator è che come metrica di valutazione non prende in considerazione lo stato del mercato che non sia azionario. Infatti gli investitori hanno molte classi di attività diverse da considerare e valutare quando si pensa alla distribuzione del proprio portafoglio ad esempio le obbligazioni e le materie prime. Il principale punto su cui focalizzarsi in questo caso è il mercato delle obbligazioni espresso come tassi di interesse. Infatti le obbligazioni rappresentano un'attività a basso rischio in alternativa ai mercati azionari e i due hanno una relazione altamente interdipendente. Quando i tassi di interesse sono alti le obbligazioni pagano un alto rendimento agli investitori il che abbassa la domanda e di conseguenza i prezzi delle azioni più rischiose. Inoltre i tassi di interesse più alti significa che è più costoso per le imprese prendere in prestito denaro rendendo più difficile finanziare quella che è la loro crescita. Mentre al contrario bassi tassi di interesse significa che le obbligazioni pagano meno gli investitori il che abbassa la loro domanda e fa aumentare il prezzo delle azioni rispetto alle obbligazioni. Tutto questo lo stiamo dicendo per andare a giustificare tra virgolette quello che è la restituzione da parte del Buffett Indicator in termini di valore attuale del mercato. Infatti non prendendo in considerazione i bassi tassi di interesse si potrebbe star facendo un gravissimo errore. Nonostante questo il Buffett Indicator secondo noi è un indicatore che può essere utilizzato da affiancare alla propria analisi di mercato per capire il momento e lo status dell'attuale situazione. Infatti quattro mesi fa quando tutti ancora erano sull'orlo dell'euforia questo indicatore ci stava dando un avvertimento dicendoci guardate attualmente lo stato del mercato si trova sullo stesso livello che io vi ho restituito negli anni 2000 antecedenti alla bolla.com. State attenti se qualcuno avesse affiancato la propria analisi di mercato questo indicatore sicuramente avrebbe evitato di fare un grossissimo errore come magari essere andato all in su determinate tech stock che poi sono crollate a seguito di tutte le vicende. Grazie per essere rimasto con noi fino alla fine del video ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al canale. Alla prossima!